Sorpreso tra i banchi rionali di Piazza Mercato un 27enne napoletano intento a spacciare banconote false. Le perquisizioni eseguite nella sua abitazione hanno permesso di scovare, occultate nei mobili di una camera da letto, altre 1.946 banconote false del valore nominale complessivo di circa 139.000 euro in tagli da 50, 100 e 500, oltre a un piccolo quantitativo di stupefacenti per uso personale. Le banconote false di ottima fattura sei mesi sul mercato avrebbero fruttato al responsabile un guadagno che può girarsi intorno al 15% del valore nominale. Il responsabile denunciato per introduzione nello stato di monete falsificate e di ricettazione è stato anche segnalato all'Inps per le procedure di competenza in merito alla sospensione e alla revoca del reddito di cittadinanza di cui è risultato percettore. Grazie. Grazie. Grazie.